Ciao a tutti, io sono Mauro Magrini, un one man band, e suonerò più strumenti simultaneamente. Qua ho una cigar box, che è una scatola di sigari al posto della chitarra, e là ho una valigia di cartone al posto della gran cassa. Buon ascolto! Questa è la mia band! Buon ascolto! 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 Buon ascolto!